Si aprono le gabbie, partiti i cavalli dell'attrice quartè quintè. Bagarre per la testa, alla fine il più veloce è proprio Rose poi che si porta al comando, controllando rispetto a Coniton che si è adeguato in seconda. In terza c'è invece Bridge Shana Sand, poi un quartetto formato da Sir Lawrence, Stella che balla, all'esterno c'è anche Selector. Poi dietro a questi troviamo anche Otrechoes, Vivimi, al suo esterno El Tabal con la giubba arancia, c'è poi anche Cal Danelle al cui interno viaggia Budicca e tutto il resto del gruppo. Quando i cavalli sono ad affrontare già la prima parte della curva con in vantaggio Rose poi subito pressato all'esterno da Bridge Shana Sand. In terza posizione c'è a Coniton, in quarta Stella che balla, poi Sir Lawrence, Selector, ancora Vivimi che precede Victoria's Time, Cal Danelle, El Tabal, Budicca. E a chiudere il gruppo in questa fase c'è Otrechoes, cavalli che sono già all'ingresso e addirittura ad arrivo con Rose poi in leggero vantaggio. Nei confronti Bridge Shana Sand, a Coniton che temporeggia lungo lo steccato, Stella che balla invece che lancia nel lungo anticipo cercando appunto di anticipare Selector. Dietro a questi c'è Sir Lawrence, poi Victoria's Time che cerca di venire avanti. Quattro cavalli su di una linea con a Coniton che non ha lo spazio e da lì dovrebbe vaporizzarsi. Stella che balla allora prende l'iniziativa decisa con Selector che prova a fargli lo scatto addosso. Ci prova ancora a restare in quota Sir Lawrence con Rose poi ha trovato lo spazio a Coniton ma da lì è lontanissimo. E allora dal centro della pista ci prova anche Caldanelle con Stella che balla che però ha preso del margine. Adesso deve amministrarlo perché c'è il grande finalone di Coniton che ci prova! Ma in vano perché Stella che balla dovrebbe aver mantenuto la posizione. Dobbiamo rivedere il tutto ma sfortuna mega galattica per Coniton che ha trovato il varco solo alla fine. Ma vediamo le battute finali, chi premiano? Eh sì ancora Stella che balla, Oscar della sfortuna per a Coniton, al terzo posto San Lorenzo, al quarto Selector, al quinto Caldanelle. L'ordine d'arrivo numerico è 7, 3, 4, 8 e 11. 7, 3, 4, 8, 11 è un ordine d'arrivo provvisorio per Stella che balla al primo handicap, prima vittoria. Con la figlia di Desert Friends che ha il quarto tentativo in carriera. Come detto al primo handicap vince molto bene anche se come detto è stato sfortunatissimo a Coniton. Grazie a tutti.